La croce non spegne la speranza, ma la fa rinascere in modo nuovo. In uno dei passaggi della Catechesi all'udienza generale in piazza San Pietro, il Papa ha parlato delle speranze del mondo e della croce, facendo ricorso all'immagine del chicco di grano che, morendo, produce frutto. Gesù ha affermato, ha portato nel mondo una speranza nuova e lo ha fatto alla maniera del seme. Ha vissuto l'amore fino in fondo, lasciandosi spezzare dalla morte, e proprio nel punto più basso, nella terra, lì è germogliata la speranza. Gesù sulla croce ha preso su di sé il peccato, trasformandolo in perdono. La nostra morte è in risurrezione, la nostra paura è in fiducia, e questo spiega che solo con Lui ogni nostra oscurità può essere trasformata in luce, ogni sconfitta in vittoria, ogni delusione in speranza. L'unica via è quella dell'amore umile che spazza via la voracità di chi non è mai sazio, di chi vive per i suoi interessi e quindi perde. Chi vive al modo di Dio, allora è vincente, ha sottolineato il Papa, salva se stesso e gli altri, diventa seme di speranza per il mondo. Farà bene, allora, guardare il crocifisso e recitare. Con te niente è perduto, con te posso sempre sperare, tu sei la mia speranza. La croce è il passaggio obbligato, ma non è la meta, è un passaggio. La meta è la gloria, come ci mostra la Pasqua. E qui ci viene in aiuto un'altra immagine bellissima che Gesù ha lasciato ai discepoli durante l'ultima cena. Dice, la donna, quando partorisce, è nel dolore perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino non si ricorda più della sofferenza per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Ecco, donare la vita, non possederla. E questo è quello che fanno le mamme. Danno un'altra vita, soffrono, ma poi sono gioiose, felice perché hanno dato un'altra vita. Dà gioia. L'amore dà alla luce la vita e dà persino senso al dolore. L'amore è il motore che fa andare avanti la nostra speranza.